Il 27 marzo del 1994, il centrodestra, creato e guidato da Silvio Berlusconi, vinse stravolgendo tutti i pronostici della vigilia, le elezioni politiche. Forza Italia, fondata pochi mesi prima, risultò essere il partito più votato, un successo eclatante che cambiò per sempre la storia del nostro paese. In quel giorno, esattamente 30 anni fa, venne archiviata la Prima Repubblica e si affermò il bipolarismo. Così Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Il presidente Berlusconi, aggiunge Occhiuto, era riuscito in pochissimo tempo a costruire un'alternativa concreta, credibile, nazionale, popolare, cattolica e europeista. I cittadini lo premiarono, rigettando la proposta della sinistra e aprendo decenni di successi per Forza Italia e per il nostro leader. Oggi ricordiamo con grande orgoglio quella Prima Vittoria, forti di radice e valori solidi, che ci aiuteranno, con la guida del segretario nazionale Antonio Tajani, a custodire e alimentare anche in futuro l'immensa eredità politica donataci dal presidente Silvio Berlusconi. È vero che il decreto ministeriale 70 ha dei vincoli, ma è anche vero che c'è una specificità che appartiene alla Calabria, secondo anche quanto ha affermato la Corte Costituzionale a proposito del commissariamento della Sanità Calabria e quindi ha bisogno di risposte eccezionali. L'ho detto il presidente della regione, Roberto Chiuto, è commissario regionale ad acta nell'informativa sulla rete sanitaria e ospedaliere in Consiglio regionale e queste possibilità eccezionali, ha aggiunto Chiuto, dovevano risiedere anche in una ipotesi di nuova rete ospedaliera. Per questo, lo scorso martedì, con il Ministero della Salute, abbiamo ottenuto l'adesione ad una proposta di ridurre di meno le unità operative complesse presenti sul territorio e di diluire questa diminuzione nel prossimo quinquennio. Nel suo intervento, il presidente ha ripercorso gli effetti che ha definito nefasti che il lungo commissariamento ha prodotto sulle sorti della Calabria ed ha ricordato che nella definizione delle reti ospedaliere anche le regioni non commissariate sono sottoposte alla valutazione del Ministero della Salute e del Ministero di Economia e Finanza, ministeri affiancanti secondo i criteri fissati dalla D.M.70. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge relativa all'istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi. La proposta è scaturita all'esame abbinato delle proposte di legge una della Giunta regionale, l'altra del consigliere del PD, Raffaele Mammoliti, ma la maggioranza ha preferito andare avanti da sola approvando un attesto che, seppure emendato, riprende in gran parte la proposta dell'Aggiunta regionale. La nostra era una proposta di riforma, ha detto il consigliere Mammoliti prendendo la parola come dichiarazione di voto. La vostra è una riforma di conservazione. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro conservativo di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro nei confronti di due dirigenti dell'ex azienda ospedaliera Pugliesi Ciaccio di Catanzaro in relazione a un presunto danno erariale per un importo corrispondente all'importo del sequestro. I dirigenti a carico dei quali è stato eseguito il sequestro Sono El Garizzo, di 53 anni, ex dirigente dell'area legale dell'ex azienda ospedaliera, oggi denominata azienda ospedaliera universitaria Dulbecco, e Vittorio Preiano, di 67 anni, ex direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Pugliesi Ciaccio, oggi in pensione. Il sequestro dei beni è stato fatto in esecuzione di un decreto emesso dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria su richiesta della procura regionale presieduta da Romeo Ermene Gildo Palma. I fatti contestati ai due dirigenti sui quali ha proceduto il sostituto procuratore generale Gian Piero Madeo risalgono a una decina di anni fa e riguardano un rilevante danno erariale contestato ai due dirigenti, derivante dal mancato introito di ingenti somme nelle casse della loro azienda ospedaliera Pugliesi Ciaccio a causa di un anomalo accordo transattivo stipulato con la casa di cura privata Villa Sant'Anna in relazione ai crediti vantati all'azienda nei confronti della clinica per la cessione di sangue e prodotti emoderivati. La Corte dei Conti Settimana Santa nella giornata di mercoledì nella Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta di Squillace l'Arcivescovo Claudio Maniago ha presieduto la concelebrazione della Santa Messa Crismale. Eccellenza, è il caso di dire che in questa giornata l'Arcidioce si riunisce intorno all'Arcivescovo? Eh sì, davvero, mai come in questa celebrazione tutti si stringono intorno all'Arcivescovo non tanto per un suo prestigio personale quanto per quello che lui rappresenta cioè in fondo quella radice apostolica che rende una diocesi, una chiesa legata a Cristo, ai dodici e quindi a Cristo. Quindi una giornata importante in cui unica è tutta la diocesi si consacra il Crisma, si bericono gli oli si rinnovano le promesse sacerdotali è davvero una celebrazione di un'intensità unica e per questo davvero una fonte di grande grazia. Forse anche per questo viene considerata la festa dei sacerdoti. Non solo dei sacerdoti in particolare dei sacerdoti, certo ma è la festa del popolo di Dio e dei sacerdoti che certamente hanno un ruolo particolare all'interno del popolo di Dio. Cosa significa per lei vivere questo momento alla Messa Crismale all'interno della concattedrale di Squillace? Significa immergermi nuovamente nel mistero della misericordia del Signore che mi ha chiamato perché lasciando tutti quanti gli impegni della vita terrena io ho anche laureato, lasciando la mia attività lavorativa dedicassi la mia esistenza a un compito nuovo e entusiasmante che è quello di essere ministro dell'amore e della misericordia di Dio. Andiamo a Parma senza paura vogliamo giocarci la partita a viso aperto e così sicuramente sarà. Così Tommaso Biasci attaccante prolifico del Catanzaro di scena nel giorno di Pasquetta sul terreno della capolista il Parma non ha mai perso in casa il Catanzaro sogna il colpaccio ci giocheremo la partita con tutte le nostre armi ha detto Biasci. Sì, può contare appunto a livello di rivalza perché comunque è stata una partita che ci ha fatto male ovviamente sappiamo che andremo là cercheremo di fare il meglio possibile loro avranno la pressione di vincere noi andiamo là a giocarci la partita ma come facciamo sempre a cercare di imporre insomma il nostro gioco condizionare non penso perché comunque è passato più di un girone e noi siamo cresciuti loro anche quindi penso che sarà una partita diversa dall'andata. Beh, come vi avevo detto a inizio anno io ero sicuro di poter far bene in questa categoria e soprattutto con questa squadra per quanto riguarda l'età probabilmente sì, potevo arrivarci prima però magari voglio pensare che ci sono arrivato alla maturità giusta nella situazione, nell'ambiente giusto e nella squadra giusta e sono contento ovviamente non mi voglio fermare voglio continuare a fare gol decisivi e cercare di portare più in alto possibile la squadra. Siamo sereni ma ci approcciamo come abbiamo sempre fatto partita per partita sappiamo che ora verranno partite sulla carta un po' più dure magari anche se abbiamo visto che il campionato poi è difficilissimo anche se giochi con le ultime della classifica però vogliamo approcciare bene queste partite perché sappiamo che se faremo i playoff come probabilmente faremo affronteremo queste squadre che affronteremo quindi cercheremo di migliorare di prendere le misure di cercare ad abituarsi a questo tipo di partite per essere pronti poi durante i playoff. Grazie a tutti per aver guardato il video